In questo evento promosso e realizzato anche con il sostegno del CONI nel quale il mondo della scuola e il mondo dello sport dialogano su quello che è un tema assolutamente sensibile. Come provincia tanto stiamo investendo in questi anni proprio su un tema assolutamente delicato che è quello del bullismo e in particolare del cyberbullismo. Proprio nei giorni scorsi abbiamo dato il via anche al nuovo bando per l'anno scolastico il 22-23 proprio per quanto riguarda il poter dare alle nostre scuole maggiori risorse per progettualità che proprio tendono a migliorare le nostre scuole nella prevenzione di quello che è un fenomeno assolutamente delicato. Investire su questo abbiamo investito tanto perché abbiamo triplicato in questi 4 anni il finanziamento perciò le risorse che la provincia dà alle nostre scuole proprio su questo particolare tema. Però si concilia anche con quelli che sono i valori dello sport, i valori dello stare insieme e le tecniche ovviamente di autodifesa sono fatte semplicemente per dare maggiore consapevolezza, maggiore autostima ai nostri ragazzi. Perciò su questo penso che l'impegno del mondo del CONI, del mondo della scuola sia assolutamente forte. Oggi vedere qua al Teatro San Bappolis tanti ragazzi accompagnati da docenti, accompagnati da dirigenti penso che sia un bellissimo segnale per i nostri ragazzi ma anche per le nostre famiglie.